da sempre uno dei problemi più frequenti per chi studia e per chi lavora è quello di concentrarsi e rilassarsi in maniera da rendere davvero efficaci diciamo le ore di lavoro di aggiornamento di studio per poter migliorare la propria concentrazione bisogna fare due tipi di lavoro cioè intervenire in due modi diversi il primo è internamente e il secondo è creare diciamo le condizioni ideali per potersi concentrare e rilassare quindi partiamo da questo secondo punto allora quando studiamo l'ideale è creare un piccolo tempio dello studio chiamiamolo così un luogo ideale per poter apprendere dove abbiamo a portata di mano tutto quello che ci serve e da cui teniamo lontane tutte le cose che invece ci potrebbero distrarre in particolare per esempio il telefono che oggi è diventato una fonte inesauribile di cose interessanti ma che ci possono sicuramente distrarre bisogna avere tutto quanto vicino ma come dicevo prima terzi lontani le distrazioni quindi anche il computer anche diciamo tutte quelle cose che non sono strettamente connesse all'ora di studio o di aggiornamento che stiamo facendo l'ambiente ideale per studiare sicuramente non è vicino a persone che non hanno lo stesso obiettivo questo vabbè sembrerà magari scontato da dire però sinceramente io preferisco rimanere da solo quando studio o quando lavoro perché perché chiaramente le altre persone rappresentano una fonte di distrazione incredibile e soprattutto chiaramente se non hanno lo stesso obiettivo come te di rendere profittevole diciamo l'ora di studio quindi che cos'è che devi avere vicino devi avere tutto quello che ti serve in maniera che durante la tua diciamo fase di studio non ti debba alzare per andarti a cercare delle cose uno degli strumenti più utili per chi deve studiare chiaramente è il vocabolario lo so che sembra una cosa antiquata però perché avere davanti un bel vocabolario ma allora innanzitutto perché è vero che si possono cercare il significato delle parole sul cellulare però questo poi vorrebbe dire avere il cellulare in mano e si sa che poi ti arriva una notifica di facebook una di instagram un messaggio di whatsapp e quindi la concentrazione va a farsi benedire avere un bel dizionario davanti in realtà è fondamentale perché perché a volte non ci rendiamo neanche conto di quali parole in realtà non abbiamo ben chiare o meglio di cui non sappiamo dare una chiara definizione ma che magari sono fondamentali come termini della materia che stiamo studiando e quindi avere il vocabolario davanti e tutte quelle altre cose che ci saranno utili durante l'ora di studio ci permette di creare questo piccolo tempio dello studio in cui riusciamo a concentrarci e rilassarci diciamo che più ti abitui a studiare sempre nello stesso posto più la tua mente associerà quel luogo al momento di studio e quindi è come se dessi un input che è quello di prepararsi al meglio per poter apprendere con efficacia posto che le abitudini poi che abbiamo acquisito nel corso degli anni in realtà sono molto importanti a farci percepire come più o meno utili alcuni strumenti l'utilizzo della musica potrebbe essere qualcosa di molto un tipo di musica che favorisce diciamo l'abbassamento della frequenza delle onde cerebrali questa cosa è molto complessa però cosa significa che l'ideale per poter apprendere con efficacia è entrare in quel cosiddetto stato alfa cioè lo stato di veglia rilassata alcuni tipi di musica favoriscono diciamo questo tipo di stato mentale e sono delle musiche piuttosto diciamo lente rilassanti sicuramente su internet potrai trovarne diverse basta cercare insomma musica per rilassarsi e concentrarsi musica per favorire lo stadio alfa ecco se sei abituato ad ascoltare la musica benissimo vedrai subito sicuramente un giovamento se non sei abituato ad ascoltare la musica magari anche questo tipo di musica potrebbe distrarti non parliamo poi di quella che è cantata di quella che è veloce della radio diciamo che bisogna cercare di tenere lontano e insomma spente tutte quelle fonti che possono distrarti da quello che stai facendo in quel momento quindi ricapitolando brevemente da un punto di vista diciamo esteriore quello che devi fare è crearti questo piccolo tempio dello studio un posto appartato tranquillo luminoso dove hai tutto quello che ti serve per poter studiare con efficacia senza doverti distrarre senza doverti alzare quindi puoi perdere la concentrazione parliamo adesso dell'ambiente interno questo sicuramente è un aspetto più delicato e personalmente mi sembra anche più interessante qui ci sono tantissimi aspetti chiaramente esistono delle tecniche le tecniche che vengono insegnate ai corsi sull'apprendimento che ti aiutano diciamo a ricreare in maniera molto veloce quello di cui parlavamo prima cioè lo stadio alfa quello stadio di veglia rilassata che serve per poter apprendere e per potersi rilassare nella maniera ideale detto questo se stai studiando e ti capita di perdere facilmente la concentrazione è perché probabilmente quello che leggi in realtà non è particolarmente interessante per te cioè è ovvio che se stiamo leggendo qualcosa che ci appassiona sarà più facile mantenere la concentrazione se invece il testo è scritto male o comunque riguarda una materia che non ci è particolarmente diciamo amichevole diciamo così allora sarà più facile perdere la concentrazione però su questo aspetto ecco voglio darti uno spunto importante se durante la lettura ti senti particolarmente annoiato ti senti un po' più confuso del solito se invece di provare diciamo un moto di attrazione verso quello che stai leggendo invece senti un po' di rifiuto probabilmente non è solo una questione di difficoltà di concentrarsi rilassarsi probabilmente ci sono alcune cose all'interno del testo che non stai comprendendo ecco avere diciamo l'attenzione sulle parole che leggiamo e quindi sulla nostra capacità di definirle di averle comprese chiaramente è fondamentale nello studio di alcune materie addirittura l'incapacità di definire le parole più importanti di quella materia rende tutto quanto estremamente complesso te ne accorgi proprio perché durante la lettura è molto facile distrarsi quindi primo aspetto fondamentale per quello che riguarda l'ambiente interno è se noti che provi particolare difficoltà a rilassarti concentrarti e addirittura il testo ti crea un po' di confusione o ti crea diciamo un po' delle sensazioni un po' negative ma anche di stanchezza probabilmente c'è qualcosa che non è ben chiaro tua mente ci sono magari delle parole che tu leggi il cui significato non è così definito nella tua testa e quindi è proprio importante che tu le trovi e che poi vada a cercarle sul dizionario in maniera da riuscire a rendere molto più chiara molto più nitida la loro definizione pensa che anche solo fare un lavoro sulle 30 40 parole più importanti di una materia cioè i vari termini specifici di quella materia ha aiutato tantissimi studenti che prima pensavano di non essere portati per quella materia e poi invece hanno scoperto che anche loro riescono a capire quello che c'è scritto nel libro è ovvio che se ti mancano le basi per poter comprendere la concentrazione la si perde all'istante quindi la prima cosa è fare attenzione alle tue sensazioni interne se sono particolarmente negative significa che probabilmente c'è qualcosa all'interno del testo che non ti è ben chiaro devi trovare quelle parole la cui definizione non è chiara perché così questo ti aiuterà a costruire la tua capacità di creare conoscenza in quella materia il secondo aspetto è il dialogo interno quando chiaramente facciamo qualunque cosa c'è una vocina nella nostra testa che dialoga con noi ecco la qualità di questa comunicazione è fondamentale per potersi rilassare e concentrare quando ti distrai la tua vocina evidentemente ti sta ponendo delle domande e delle questioni su cose che non riguardano il testo motivo per cui quando cominci a leggere qualunque cosa di aggiornamento o di studio è importante che ti focalizzi sul testo quindi che ti concentri facendoti tu delle domande ovviamente delle domande inerrenti a quello che stai leggendo quindi che cos'è che vuoi imparare da quel testo quali sono diciamo le domande a cui poi vuoi saper rispondere alla fine della lettura di quel testo quali sono gli esercizi magari che dovrai svolgere quali sono le domande dell'esame che riguardano la lettura proprio di quel capitolo se ti fai delle domande intelligenti chiaramente queste indirizzeranno il focus cioè l'attenzione e quindi il tuo cervello sarà anche in grado di prendere queste informazioni in maniera molto più veloce più rapida e aiutandoti a rimanere concentrato se durante lo studio poi ti vengono in mente delle cose che proprio non c'entrano niente con quello che stai leggendo studiando o con la tua diciamo attività di aggiornamento allora vuol dire che in questo momento stai perdendo diciamo l'attenzione e quindi cos'è che puoi fare? Beh puoi tenere vicino a te un block notice un foglio insomma dove andrai a scrivere tutte le cose che ti vengono in mente ma che di per sé non sono inerenti a quello che stai studiando tutte le cose che ti distraggono potrebbero essere dei pensieri anche di per sé collegati a quello che leggi magari stai studiando un argomento e poi ti viene in mente che vorresti approfondire su un altro tema perché hai trovato qualcosa di particolarmente interessante che però diciamo non è proprio collegato diciamo all'argomento che stai studiando quindi andrebbe un po' fuori diciamo al tuo obiettivo per quella fase di studio allora cosa devi fare? Non seguire questa inclinazione? No, semplicemente appuntarlo su un foglio permetterà la tua mente diciamo di calmarsi cioè non è che lo stiamo negando, lo stiamo semplicemente procrastinando quindi è uno spunto interessante, qualcosa di intelligente che vuoi approfondire in un secondo momento magari nella pausa, benissimo, te lo scrivi e vai avanti col tuo programma di studio potrebbe anche venirti qualcosa che invece proprio non c'entra nulla e che magari è semplicemente uno, devo fare una telefonata, devo ricordarmi di quell'appuntamento c'è la bolletta da pagare, allora queste che sono tutte delle cose diciamo assolutamente inutili in quel momento vanno scritte sul pezzo di carta perché? Perché quando le scrivi sul pezzo di carta dai quella sensazione al tuo cervello di ok mi posso rilassare perché questa cosa qui la gestiremo in un secondo momento perciò adesso mi riconcentro sullo studio. Un terzo tema diciamo riguardante la cura dell'aspetto interiore per quello che riguarda concentrazione e rilassamento è il porsi degli obiettivi parlo di dichiarazione di intenti ai corsi, cosa significa? Significa che prima di cominciare una sessione di studio è importante decidere che cosa ne vogliamo trarre se per esempio so di riuscire a studiare diciamo con una certa comodità 12-13 pagine in un'ora il mio obiettivo motivante ma realizzabile sarà farne 14-15 è come se desse un messaggio alla mia mente che voglio ottenere quella cosa e a questo punto chiaramente so che per poterla realizzare ho bisogno del massimo della concentrazione di non distrarmi è come se desse una piccola sfida alla mia mente e questo sicuramente mi aiuta a mantenere la concentrazione più alta è chiaro quando stiamo facendo una gara ecco quello che tiriamo fuori come prestazione normalmente è meglio di quello che facciamo in allenamento ricapitolando cosa dovrai fare allora per mantenere più alta la concentrazione durante le tue sessioni di studio o di aggiornamento abbiamo parlato dell'esistenza di due ambienti quello esterno e quello interno quello esterno molto semplicemente significa prendersi un po' di tempo per organizzare il proprio tempietto dello studio quindi un posto dove abbiamo a disposizione tutto quello che ci può servire e da cui teniamo lontane tutte le possibili fonti di distrazione il secondo aspetto molto più delicato e importante è quello dell'ambiente interno e qui ti ho dato alcuni consigli il primo è questo se noti delle difficoltà intese come una sensazione di confusione nei confronti di quello che leggi è probabile che ci siano dei concetti, delle parole, che non ti sono ben chiare se non hai una definizione chiara di queste parole, di questi concetti è chiaro che nella tua mente non si creano delle immagini nitide di quello che stai leggendo è dunque molto più facile distrarti perciò tieni sempre vicino questo dizionario nel quale andrai a cercare eventualmente il significato di parole che magari non sono chiarissime considera poi, come dicevamo prima, che sapere bene i termini di cui è composta la materia che stai studiando è assolutamente fondamentale per poter costruire della nuova comprensione su questo argomento ho fatto anche con Giacomo un podcast che fra l'altro è piaciuto tantissimo e quindi evidentemente ha dei contenuti che potrebbero esserti utili ti invito ad andarlo a cercare perché abbiamo, diciamo, parlato di questo argomento in maniera un pochino più specifica e quindi lì potrai trovarti gli spunti interessanti la terza cosa è farti delle domande sul testo è chiaro, quando siamo interessati a qualcosa, quando siamo incuriositi da qualcosa ci stiamo facendo delle domande, quindi se io mi pongo delle domande intelligenti naturalmente sul testo tipo che cosa voglio imparare dalla lettura di questo testo o a che cosa mi servono, che cosa già so di questo argomento farò in modo di attivare, diciamo, la mia attenzione nel prendere dal testo le informazioni che evidentemente sono più importanti quindi questo mi aiuta a tenere alta la concentrazione, quindi le domande come quarto suggerimento è quello degli obiettivi datti sempre un obiettivo per quello che riguarda la tua sessione di studio di aggiornamento un obiettivo chiaramente realizzabile ma anche motivante quindi un pochino più alto rispetto a quello che tu sei abbastanza sicuro di poter fare in maniera da tenere più alta la concentrazione come ultima cosa ti ho parlato dell'esistenza di alcune tecniche di rilassamento e concentrazione che sono estremamente efficaci alcune di queste le trovi anche in Fenomeno in 21 giorni quindi potrebbe essere questo un motivo per andarti a cercare tra quelle pagine quali sono le cose più interessanti che abbiamo scritto sul come mantenere alta la concentrazione se l'argomento ti interessa particolarmente e sei curioso di avere altre informazioni fammi pure tutte le domande che vuoi nei commenti qui sotto al video e magari alcune di queste domande saranno proprio uno spunto per i prossimi video tutorial ciao 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 ciao